Ho pensato di portare il concetto di distanza oggi a Election Days perché guardando i lavori di queste giornate comunque mi sono resa conto di quanto sia fondamentale trasferire anche un messaggio sull'importanza di riuscire ad analizzare in maniera distaccata quello che è l'oggetto della propria professione. Serve soprattutto ad allargare l'orizzonte e a calcolare e analizzare lo scenario meglio di altri e anche in qualche modo a avere più chiaro dove si sta andando. L'esempio che ho portato è l'esempio che un po' tutti abbiamo visto della regina degli scacchi dove a volte in un'ottica di lungo periodo si cede la regina, si sceglie di cedere la regina per vincere il re e quindi per vincere la partita.